E' stato presentato ieri mattina presso la sede della comunità montana Vallo di Diano il nuovo progetto che consente all'ente capofila per strategie delle aree interne di mettere a disposizione del territorio 160 tablet da 10.1 pollici. Una donazione di grande rilevanza viste le difficoltà che sono state riscontrate nelle scuole durante il periodo di emergenza covid e conseguente imposizione del lockdown che ha reso obbligatorio l'utilizzo della didattica a distanza in tutte le scuole. Un nuovo metodo formativo che però ha anche fatto scoprire le numerose carenze tecnologiche ed infrastrutturali di un territorio. In diversi casi infatti i ragazzi non avevano a disposizione adeguati strumenti per poter seguire le lezioni. Ed ecco che grazie ad Amazon si fa fronte per il nuovo anno scolastico ad uno dei problemi più gravosi. Il noto marchio del commercio elettronico ha infatti donato numerose tablet alla strategia nazionale aree interne che a sua volta ha individuato 6 sulle 76 presenti in tutta Italia a cui inviare gli utili strumenti per la didattica. E tra queste 6 c'è anche il progetto di strategia del Vallo di Diano con ente capofila la comunità montana preseduta da Raffaele Accetta che manifesta la sua soddisfazione. Un momento importante per il nostro territorio per l'ennesimo riconoscimento se vogliamo che abbiamo ottenuto direttamente dal Ministero per la coesione nel voler consegnare a una delle 6 aree pilota in Italia e tra queste appunto il Vallo di Diano i 160 tablet ricevuti da Amazon nel periodo Covid è stato un gesto per migliorare insomma anche la didattica a distanza in questo periodo. E devo dire che il Ministero della coesione bene ha fatto a voler individuare appunto nelle aree interne i soggetti, le scuole, gli istituti che potessero ricevere questi tablet. E' chiaro che non è la soluzione di tutti i problemi, sappiamo benissimo quanti sono i problemi e quanti sono stati i problemi in questo periodo anche per la didattica a distanza. Però è un segnale importante che noi abbiamo raccolto con grande piacere perché ecco ancora una volta si è voluto dare importanza e valore se vogliamo a questo progetto di strategia delle aree interne e quindi ai comuni che fanno parte delle aree pilota. In questo caso noi in particolar modo al settore dell'istruzione e quindi della scuola, a tutti gli istituti con i quali noi da anni abbiamo rapporti di proficua collaborazione e quindi anche in questo caso non fa altro che un gesto del genere e un'iniziativa del genere, non fa altro che consolidare ancora di più quei rapporti di collaborazione che noi abbiamo avuto con il mondo della scuola.